Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Undergamer Oggi andremo su Clash Royale a vedere due bug fantastici Per il primo bug andremo nelle impostazioni e cambiamo la lingua In questa qua, non so come si chiama, mi pare che è cinese Ehm... Come vedete qua dove ci sono le gemme Lo fa schiacciare, ecco Ti dice, c'è una prima scritta dove dice che dovrebbero essere le gemme shoppate La seconda, le gemme guadagnate che le avete guadagnate voi E la terza, le gemme che avete ora Per il prossimo account dobbiamo cambiare di nuovo la lingua E mettere la lingua in quella sotto Ecco qua, andate sotto nel negozio dove prendete i soldi e appare un bottone Il bottone se voi lo aprite è quello della Supercell quando chiedete aiuto per che avete perso qualche cosa Mi raccomando guardate il prossimo video che ci sarà un chest opening di tre bauli d'oro Un baule leggendario, un baule della corona e due normale, omaggio Per il vostro undergamer, alla prossima